Buonasera a tutti i telespettatori di Udinese TV. Balzo preoccupante dei nuovi casi di Covid-19 in Veneto. Oggi il bollettino quotidiano della regione segna 2.960 nuovi casi. Ci sono anche 9 decessi. Le persone attualmente positive sono 40.648, 1.410 in più nell'arco delle 24 ore. Nei reparti ordinari ci sono 772 pazienti, 72 in più. Nelle terapie intensive 132, un numero stabile. E nelle ultime 24 ore è stato registrato anche un secondo caso di variante Omicron in Veneto. Lo ha reso noto il presidente della regione Luca Zaia. Si tratta di una donna di 77 anni, residente a Padova, è stata sottoposta a terapia monoclonale. La prima variante era stata sequenziata al 3 dicembre in un quarantenne vicentino tornato dal Sudafrica. La moglie e uno dei figli erano stati contagiati invece dalla variante Delta. Un altro sequenziamento è in corso sulla figlia più piccola della coppia. Tutti comunque sono in buone condizioni di salute. La prossima settimana sarà bianca, ma quella di Natale molto probabile che sarà gialla. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso del consueto punto stampa. Questa settimana ipotizziamo di essere ancora in zona bianca, ha detto Zaia. Stamani eravamo all'11% per l'occupazione dei posti letto in area non critica. Gli altri due parametri, incidenza e terapie intensive, li abbiamo già sforati, ha detto Zaia, che ha anche annunciato l'apertura dei Covid Hospital. Ci stiamo attivando in via preventiva, ha detto, e non sarà facile. Non saranno tutti attivati e subito, ma abbiamo dato l'ok affinché ci sia il benestare in via preventiva. Per l'ospedale di Schiavonia è ormai questione di ore, ha detto Zaia, mentre il San Camillo di Treviso si attiverà il 9 dicembre. Iniziamo anche con la contrazione di alcune prestazioni ospedaliere, come i weak surgery. Questo è il segno che questo virus, pur placato dalla vaccinazione, ci sta mettendo ancora sotto pressione a Monito Zaia ed è dentro gli ospedali che si stanno combattendo le battaglie durissime. Zaia si è soffermato anche sull'obbligo vaccinale, che ha detto rischia di essere una presa in giro in un paese civile, non si può costringere. Sentiamo le parole di Luca Zaia. Mi criticano perché parlo contro l'obbligo vaccinale, ma io non è che ce l'ho con i vaccini. Voglio solo dire che l'obbligo vaccinale, proposto come vedo che si propone, rischia di essere una presa in giro. Se in Germania ti dicono che hanno introdotto l'obbligo vaccinale, permesso che in Germania hanno anche vaccinato poco, ma se l'obbligo vaccinale è quello tedesco, cioè sopra i 60 anni ti vaccini, oppure se ti becchiamo in giro paghi una multa di 100 euro al mese, mi sembra sia, non mi sembra l'obbligo vaccinale. Ma non lo è neanche quello nostro, per i medici, perché se l'obbligo vaccinale è l'obbligo di avere una popolazione vaccinata aumentata, tu allora non puoi chiamare l'obbligo vaccinale, è una roba che se non ti fai vaccino stai a casa, non lavori. Quello non è un obbligo vaccinale, cos'è questa roba? È un'alternativa vaccinale. Non lavoro e non mi vaccino, ma non c'entra niente con la sanità pubblica. Quindi io dico semplicemente, invito tutti quelli che parlano di obbligo vaccinale perché fa anche cassetta a dirlo, no? E lo dice uno che crede nei vaccini. Ci volete dire come si applicherebbe l'obbligo vaccinale in Italia? Dopo che c'è sempre quei che hanno difficoltà a capire che scrivono nei social che io ho proposto il TSO per vaccinarli. Però fin l'anno che arrivo, nel senso che io ho detto che immagino che non facciano il TSO, immagino, lo scadisco bene perché dopo passano un pomeriggio intero a insultare. Immagino che l'obbligo vaccinale in un paese civile non sia accompagnare con la forza pubblica una persona che non vuole vaccinarsi a vaccinarsi, tantomeno provvedere al TSO per portare uno a vaccinarsi. In un paese civile queste robe non si fanno. È chiaro? Lo dico anche il prete che ha scritto che si era fatto un fiato di confusione. Sì, perché ormai qua tutti si occupano di vaccini, eh? Cioè c'è chi legge il Vangelo dritto, chi lo legge storto che di traverso ognuno dice la sua dopo. Allora, questo è il problema. Il problema è che sull'obbligo bisogna essere chiari sulla fase post, perché poi i vaccini li dobbiamo far noi. E ritrovarsi come al solito all'italiana, che i più furbi non se li fanno, vuol dire che diventano a presa in giro. E allora vediamo i numeri aggiornati delle vaccinazioni in Veneto. Più di 8 milioni le dosi somministrate, quasi 40 mila nella giornata di oggi, 39 mila 814. Si è trattato in particolare di dosi booster, 35 mila 573, ma ci sono state anche 2 mila 898 prime dosi. L'84,3% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale. Anche in Veneto controlli di verifica del Green Pass sui mezzi pubblici. È iniziato in modalità soft ieri da parte di ACTV e le forze dell'ordine. Allora andiamo a Venezia. Primo giorno di verifiche del Green Pass ieri sui mezzi pubblici. A Venezia controlli a campione all'entrata per il vaporetto senza troppo accanimento, forse per non creare ulteriore tensione, forse perché ci vorrebbe più personale in forze. Evitato il controllo dei pendolari, lavoratori e studenti dalle ore 7 alle ore 8 del mattino. I controllori ACTV si sono divisi tra piazzale Roma, piazzale Cialdini a Mestre e piazzale Santa Maria Elisabetta a Lido entrando in campo a partire dalle 8 e 30. Nella mattinata si sono poi aggiunti anche poliziotti e carabinieri per controllare gli approdi d'acqua e le fermate degli autobus. Chi si aspettava proteste e tensioni è stato smentito. Non ci sono state discussioni, probabilmente anche perché si trattava di un lunedì, quindi un giorno feriale tranquillo senza resse e accalcamenti di turisti. Secondo quanto dichiarato dal prefetto di Venezia Zappalorto, nei prossimi giorni i controlli saranno intensificati con servizi mirati in aggiunta a quelli ordinari. Le forze dell'ordine si divideranno tra controlli sui trasporti pubblici e sulle attività di ristorazione. Parliamo adesso del crack di Veneto Banca per l'ex popolare trevigiana. Slitta a febbraio la sentenza nei confronti dell'ex amministratore delegato Consoli. Si apre anche un altro filone d'inchiesta che lo coinvolge assieme ad altri quattro ex manager per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata. Sentiamo. Slitta la sentenza di primo grado del processo relativo al crack di Veneto Banca che vede come unico imputato l'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli. Il rinvio è dovuto alla richiesta di legittimo impedimento della difesa e si scontra con la necessità di fare presto. Uno dei capi di imputazione, l'aggiotaggio, è infatti già caduto in prescrizione lo scorso 26 ottobre. Per i reati di falso improspetto e ostacolo alla vigilanza bancaria, sui quali verrà giudicato a febbraio, i termini di prescrizione sono invece sospesi da rinvio. Sempre a febbraio ci sarà l'udienza preliminare di un nuovo filone d'inchiesta in cui Consoli è accusato assieme a altri quattro ex manager della Popolare di Montebelluna del reato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata. Secondo quanto raccolto dalla procura in fase di indagini preliminari, una consulenza del docente di economia alla Iulm di Milano, Angelo Maglietta, dimostrerebbe in una perizia, avvalendosi di un calcolo matematico, che il prezzo delle azioni tra il 2012 e il 2014 sarebbe stato gonfiato di oltre il 75% rispetto al reale valore per fronteggiare la crisi finanziaria di Veneto Banca già in atto. Andiamo avanti con la cronaca. I carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno arrestato un pakistano di 45 anni con l'accusa di violenza sessuale. L'uomo avrebbe ipnotizzato e probabilmente narcotizzato una commessa di 30 anni per poi abusare di lei. I fatti risalgono al 30 novembre scorso. Stando al racconto della donna, proprietaria di un negozio nella bassa padovana, il 45enne straniero è entrato nel suo negozio presentandosi come un rappresentante di sciarpe. Offensiva dei carabinieri della compagnia di Mestre contro i furti e tre arresti e quattro denunce. È stato arrestato un giovane classe 1999, già noto alle forze dell'ordine. Apparteneva ad un gruppo di giovanissimi sospettato di perversare nella terraferma proprio su obiettivi quali scuole, parcheggi e piazze della Movida al fine di perpetrare furti o effrazioni. Il giovane è ritenuto responsabile di una serie di furti avvenuti tra settembre e ottobre a Mestre, in particolare vicino appunto alle scuole, dove si impossessava di monopattini elettrici e anche di uno scooter in una impressionante serie di episodi. Altra coppia di predatori è stata individuata e arrestata in flagranza di reato all'alba quando è stata sorpresa a girarsi in corso del popolo a Mestre attorno a un negozio di una ditta di restaure. I carabinieri hanno subito capito di essere di fronte ai classici topi di appartamento, in questo caso di negozio, e li hanno bloccati. Una rapina finita nel peggiore dei modi ha messo sotto shock il bellunese a Lorenzago di Cadore. Un anziano è stato aggredito in casa ed è morto 12 ore dopo la rapina. Sentiamo. È stata una tragedia quella di domenica notte a Lorenzago di Cadore, in un paesino di appena 600 anni, ma è noto per essere stato per anni luogo di villeggiatura di Papa Giovanni Paolo II. Domenica notte è morto Angelo Mainardi, 82 anni, aggredito e rapinato in casa. Era circa l'1.30 della notte tra sabato e domenica quando, nell'abitazione dell'anziano, ex gelatiere, gli rompono i malviventi. In tre, incappucciati e agguerriti, gli urlano di tirare fuori i soldi. L'uomo è quindi stato legato con una grossa corda da montagna e i ladri hanno frugato in casa fino a trovare 200 euro. Nessuna aggressione, nessuna ferita. Ma dopo 12 ore dall'accaduto, Mainardi è deceduto. Impietrito dalla paura e sotto shock, l'uomo è riuscito ad avvisare il fratello dell'accaduto solo alle 4.30. Da lì la chiamata al 118 e l'arrivo dei soccorsi, ma tutto sembrava davvero sotto controllo. Parametri nella regola. L'uomo non viene ricoverato, le forze dell'ordine procedono al sopralluogo e l'anziano deposita la sua testimonianza. Sarà l'autopsia effettuata oggi all'obitorio di Belluno a chiarire le cause del decesso. Intanto resta un'intera comunità sotto shock, perché a Lorenzato di Cadore un evento del genere non era davvero mai accaduto. Piccola parentesi dedicata al meteo, perché domani sulla montagna Veneta, già ben innevata, è in arrivo un intenso episodio nevoso con 30-50 centimetri di neve, già a 1200 metri di quota, ma è prevista neve anche a bassa quota, 15-30 centimetri a fondo valle in Val Belluna. Il fenomeno determinerà una generale instabilità del manto nevoso, che da mercoledì pomeriggio in poi renderà possibili scaricamenti e valanghe spontanee lungo i versanti ripidi. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di criticità per valanghe di grado giallo, il livello di attenzione è appunto il livello giallo, su Dolomiti e Prealpi a partire dalle 13 di domani. Sempre domani mattina sono previste in Veneto anche precipitazioni in estensione a partire da ovest, che nelle ore centrali della giornata potranno diventare anche a tratti forti. E adesso è il momento delle anticipazioni, delle notizie che potremmo leggere sul gazzettino in edicola domani. Ci colleghiamo subito con Ario Gervasutti. Buonasera Ario, ti passo subito la linea per tutte le anticipazioni. Buonasera, buonasera a voi i telespettatori di Udinese TV. Domani sul gazzettino ovviamente ci concentriamo sull'evoluzione della situazione del Covid con il timore del Presidente del Veneto Zaia di vivere in un Natale di fatto in zona gialla. I numeri vanno verso quella definizione, quella situazione, ragion per cui è ipotizzabile che ci siano appunto delle restrizioni che però ricordiamo sostanzialmente riguarderanno solamente chi non è vaccinato. Quindi per la gran parte dei cittadini veneti, ricordiamo che il Veneto è circa l'85% di copertura vaccinale, non ci saranno particolari restrizioni. In compenso ci sono situazioni che sono tenute sott'occhio soprattutto per quanto riguarda l'evoluzione della variante Omicron con una donna di 77 anni di Padova che appunto è risultata positiva a Omicron, una persona che viaggiava in particolare sulla tratta, sui mezzi pubblici, sulla tratta tra Venezia e Padova ed evidentemente ha incrociato qualcuno positivo alla variante Omicron. Questo che cosa sta a significare? Che non solamente chi è stato in Sudafrica ormai può considerarsi potenziale portatore di questa variante. In sostanza la variante Omicron ormai è diffusa al di là dei soli tre casi che fino ad oggi quattro con questa signora sono stati registrati. Ci sono però dei controlli che funzionano e c'è la richiesta in particolare di non verificare il Green Pass per gli studenti sugli autobus, per gli studenti minorenni. È una richiesta che è finalizzata a non appesantire la situazione dei controlli, però al momento la linea del governo non cambia. Il governo che nel frattempo, ed è questa un'altra notizia, ha raggiunto un'intesa per il lavoro agile o smart working, come dir si voglia, anche nel settore privato con tutte le associazioni datoriali, con Findustria, con Partigianato e i sindacati. Quindi c'è un accordo quadro per questo passo in avanti rispetto alle modalità di lavoro tradizionali che abbiamo conosciuto fino a prima della pandemia. Ci sono molte altre notizie, una in particolare, ve la segnalo, è una notizia politica e riguarda l'osservatorio del Nord-Est che come ogni settimana presenta i suoi risultati sul gazzettino. Il sondaggio questa volta riguarda il gradimento o la valutazione che viene data al governatore Zaia, ebbene continua a mantenere dei risultati che sono molto al di sopra del normale range a cui siamo abituati nella valutazione e nel giudizio dei politici. Addirittura raggiunge l'87%, con dei consensi nei confronti di Zaia che vengono perfino da un 70% di elettori del PD. Questo radice lunga su una situazione che è davvero un unicum nel panorama politico nazionale e non solo. Ci sono molte altre notizie poi di cronaca, sia cronaca locale che cronaca nazionale e internazionale, con tra tutte la positiva notizia finalmente che si sta sbloccando la situazione di Patrick Zaki, lo studente italo-egiziano, prigioniero ormai da più di due anni in Egitto. Queste e altre notizie le troverete ovviamente domani con il gazzettino in edicola. Vi ricordo sempre che chi ha l'abbonamento digitale le può leggere già a partire dalla mezzanotte. Grazie a Dario Gervasuti per tutte queste anticipazioni. Adesso noi andiamo a Caorle, che ormai è entrata in clima natalizio con il Caorle Wonderland. Tante iniziative e tante novità, tra cui il record di lunghezza del mercatino, 1.430 metri per una settantina di casette. E allora vediamoci questo servizio, poi le previsioni del tempo e la sigla. Grazie di essere stati con noi e buona serata a tutti. Sarà il mercatino di Natale più lungo d'Europa con i suoi 1.430 metri di lunghezza e con una settantina di casette natalizie. Caorle Wonderland è in programma da domani fino al 9 gennaio, con un chilometro in più di nuove attrazioni e proposte. Un mese magico per Caorle che si vestirà a festa per la terza edizione di questa manifestazione che segna la nascita della stagione invernale per la città. Ospite d'eccezione in occasione dell'apertura sarà DJ Albertino che si esibirà con un DJ set nell'area Music Land ad orario di aperitivo. Durante il periodo della manifestazione la biblioteca e il Museo del Mare resteranno aperti e sarà possibile anche visitare il campanile di Caorle. Novità di quest'anno sarà un recinto con quattro alpaca a disposizione dei visitatori per un percorso didattico rivolto in primi sei bambini e una pista da sci di fondo di 400 metri fronte mare. Caorle Wonderland torna con lo scopo di incentivare il commercio e la ricettività locale anche in inverno, sviluppando una forma di turismo alternativa al balneare. Simone Tomasello, organizzatore di Caorle Wonderland alla conferenza stampa di presentazione, ha dichiarato Dopo un anno di stop causa pandemia, quest'anno vogliamo tornare a vivere il Natale a pieno e in sicurezza. Nelle passate edizioni abbiamo superato il mezzo milione di visitatori e quest'anno contiamo di superare questa cifra. Bentrovati agli amici di Uninesi TV che ci seguono dal Veneto. La situazione sulla nostra regione è per la giornata di mercoledì con un'intensa perturbazione nord-atlantica. Apporterà precipitazioni sparse, più copiose tra il pomeriggio e la serata, attenzione alle nevicate a quote di bassa collina, tratti fin verso i settori pedemontani. Difatti fiocchi di neve attesi anche sull'Alto Vicentino. Pioggia prevalente comunque in pianura, in montagna neve abbondante. Attenzione alla Val Belluna perché qui le nevicate potrebbero creare disagi alla circolazione anche a Belluno. Dettagli maggiori e ulteriori approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS